di San Mignato la pratica che ha cambiato per almeno 15-18 minuti la partita ma gli Eros non l'hanno mai mollato hanno continuato a lottare sono aggrappati a un dell'uomo super 24 punti ma Gemma non ha mai mollato è tornata tante volte in vantaggio alla fine del terzo quarto il punteggio diceva 57 a 59 in favore di Gemma ma nel quarto quarto gli Eros hanno costretto a soli 10 punti la squadra di Marco Del Re è una caratteristica quella della squadra di Federico Barzotti e di Gabriele Carlotti di sempre delle squadre di Barzotti e Carlotti di lavorare forte, fortissimo incredibilmente forte sulla difesa e stavolta dopo 39 partite dopo 38 partite e tre quarti è venuto fuori nell'ultimo quarto una difesa stellare che ha distrutto le forze di una Gemma che ha lottato finché ha potuto ma gli Eros hanno trovato punti da Dell'Uomo, da Giancarli da Casoni da Lafitte che in fondo è andata a recuperare un paio di palloni e un canestro importante ma sarebbe ingiusto non parlare di tutta la squadra un'emozione incredibile vincere a Gara 5 questa serie speciale e vincerla in un modo che è frutto del lavoro che abbiamo fatto è una gioia immensa giocarla qua non commento l'ho detto l'altro giorno è imbarazzante però per me è un valore speciale la chiusura di un cerchio è un'emozione incredibile ringrazio ragazzi ci hanno provato per 40 minuti abbiamo provato un po' a cambiare le cose mettendo dentro Marengo al posto di Rasio e noi siamo riusciti a mettere in difficoltà una squadra che sicuramente stava meglio di noi fisicamente secondo tempo abbiamo mosso un pochino meno la palla in attacco e concesso qualcosa in difesa a loro poi sono entrate quattro triple diciamo fortunose in un momento della partita molto importante a noi qualcosa è uscito e alla fine penso che la differenza l'abbia fatta questa